Si chiama Incanti ed è un fuori mostra di Palazzo Strozzi, ospitata qui a Casa Bruschi ad Arezzo, inaugurata tra l'altro nel fine settimana della Fiera Antiquaria. Casa Bruschi ha come dettato quello di celebrare e promuovere il concetto di antiquariato, di collezionismo e di tutto quello che concerne quello che sta succedendo ora in questa bella giornata nelle strade e nelle piazze di Arezzo, ma però l'attenzione al contemporaneo è un'attenzione che abbiamo voluto sancire con un rapporto stretto con la fondazione di Palazzo Strozzi, infatti questa mostra è collegata come fuori mostra a Palazzo Strozzi. Invito a Palazzo, alla Casa Museo di Ivan Bruschi, amministrata da Ubibanca, è dunque l'occasione per ospitare in Canti uno dei fuori mostra della retrospettiva Natalia Gonciarova, organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze. La mostra retina è una selezione di quattro opere che tracciano un suggestivo itinerario fra i mondi ricchi di immaginazione delle avanguardie novecentesche. Dal paesaggio toscano di Gino Severini, dipinto però fra la Toscana e Parigi, alla giungla incantata di Rousseau, una giungla nella quale il pittore in realtà non era mai andato, ma che aveva fantasticato proprio nei giardini di Parigi, all'isola del tesoro inquietante ed enigmatica di Magritte, fino agli animali che si ritrovano all'interno borghese di Savinio con un viaggio che potremmo dire nel tempo dell'infanzia.